Cancellare la sconfitta inaspettata contro Salerno per proiettarsi poi alla post-season per il mantenimento della categoria. È una sconfitta che ha fatto male, non solo alla classifica, perché ora riapre i giochi e dietro c'è la pressione di Aranto che spera in un altro passo falso di Avellino. È piaciuta la fase difensiva, abbiamo concesso troppi tiri facili, loro sono stati molto bravi a segnarli, però noi abbiamo fatto vedere che abbiamo cambiato comunque il ritmo alla squadra quando mettiamo pressione di difesa, riusciamo a correre. Questa partita abbiamo concesso troppi punti, infatti abbiamo anche fatto fatica in attacco per quello. L'obiettivo del VPC Delfe e Saverino è riscattarsi nel prossimo turno al Palla del Mauro a Riva Pescara, formazione che stagione regolare ha vinto soltanto tre partite ed è una squadra che potrà permettere a coach Andrea Crosolore di dare spazio e che ha giocato Finquimino provando qualcosa di diverso. Sono un po' piccoli e dobbiamo un attimino organizzare tutta la difesa e tutto il resto per limitare questa carenza che abbiamo. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, ogni tanto mi piacerebbe provare Verazzo da due, magari fare un quintetto un po' più alto invece che avere Sandri da quattro col quintetto piccolo, però in questo momento tra infortuni e quello che è successo nell'ultima partita non ho avuto modo di provarlo. Il tecnico potrà contare su tutti gli effettivi, da valutare saranno le condizioni di Giovanni Carenza, l'ex Rieti Orzinuovi potrebbe essere della partita dopo il forfè arrivato contro Salerno. Ci siamo tutti, Giocarenza è a posto, non sappiamo se riuscirà a giocare questa, però proviamo a recuperarlo per l'ultima e per gli spareggi. Grazie. 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 Grazie.